ci crede perché se no non si vende più in Svezia, in Norvegia, in Stradio, va benissimo, è bellissimo quando una cosa entra in questa sfera, il cibo è il bene primordiale perché è l'unico che mettiamo dentro il nostro corpo ed è quello da cui bisogna imparare tutto, è meraviglioso che si faccia il vino bio perché è una moda, è bellissimo, dobbiamo far diventare moda, comportarci bene, poi se uno non lo fa mio, deve essere castigato, ma è così, questa è la mia idea su come risolvere il problema perché io non sono un polenista, stamattina ricevo con Zagrebensky che ancora ce l'ha con la legge, ha ragione, prima ce l'aveva con quell'altro e poi con quell'altro, al fine con questi ben altristi, si chiamano ben altristi, quelli che di fronte a ogni soluzione, eh ci va ben altro, non andiamo da nessuna parte, sono meravigliosi, li leggi, figli, ma bellissimo, però non si combinerà mai un tuo, per combinare loro bisogna trovare soluzioni, le soluzioni sono figli di un compromesso, non potranno mai andare bene a tutti, non andare bene a un po', ma le fai, le fai, quindi il rispetto è il futuro per salvare questo pianeta, se no non lo salviamo, dobbiamo avere un'ora a porto con l'acqua, con l'aria e con la terra e a me che diventi moda avere un'ora a porto con l'acqua, con l'aria a terra, mi va benissimo, che diventi moda fare un'ora a porto con l'acqua.